Il sommerso nel turismo ha assunto anche in Umbria dimensioni inquietanti per gli effetti che questo fenomeno in crescita esponenziale è in grado di produrre in termini di sicurezza sociale, evasione fiscale e contributiva, lavoro nero, mancata tutela dei consumatori. Nato sull'onda della sharing economy, il sommerso nel turismo si sta configurando invece come Shadow Economy sfuggendo così a qualsiasi registrazione e controllo. Nel corso di una conferenza stampa, Federalberghi Umbria ha presentato l'indagine condotta da Incipt Consulting che per la prima volta fotografa il fenomeno in ambito regionale. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente di Federalberghi dell'Umbria Giorgio Mencaroni, il vicepresidente Federalberghi della provincia di Perugia Andrea Barberi, Maria Stella Minuti di Incipt Consulting. Oggi il dato che emerge è naturalmente se noi pensiamo che la maggior parte, cioè l'offerta o come nasce la legge, prevedeva naturalmente nel concetto della sharing economy e nel concetto di dare una mano alle famiglie magari in momenti difficili come questi di poter affittare parte della loro abitazione, quindi affittare una camera, due camere, quello che era possibile e quindi con la presenza all'interno del BNB della famiglia, oggi troviamo che le offerte che vengono fatte dell'intera proprietà per quello che riguarda l'Umbria, l'88,9% delle offerte sono per naturalmente un discorso dell'intera proprietà, quindi che vuol dire? Che la presenza della famiglia non c'è e quindi è un tradire anche il concetto naturalmente che prevede la legge. L'altro tema, poi abbiamo parlato dell'illegalità, cioè non c'è controllo per quello che riguarda la parte della fiscalità, cioè voglio dire, quindi quello che viene dichiarato. C'è naturalmente un fatto, anche questo non positivo, perché tutto deve essere denunciato per quello che riguarda le presenze, perché altrimenti c'è un mancato incasso da parte delle amministrazioni comunali, ma c'è anche un falso per quello che riguarda il dato delle presenze. E l'altro c'è il tema dell'illegalità, abbiamo trovato in alcuni casi dove un'unica proprietaria presenta addirittura 20 immobili che sono affittati come B&B e allora mi chiedo, ma questo soggetto può fare tutto da solo, quindi dare a settare le camere, consegnare le camere, riprendere le camere, ripulirle, dare le colazioni, fare tutte queste cose da sola, da sola come persona? Ecco, allora ha necessità di personale, in molti casi questo personale è un personale che opera al di là delle regole e credo che questo naturalmente vada in un qualche modo regolamentato perché se no avvengono concorrenze sleali tra diverse forme naturalmente di turismo, ma gli stessi B&B, quelli che sono in regola, perché ce ne sono diversi anche in regola, chiedono naturalmente una regolarizzazione perché per loro la illegalità e la concorrenza diventa doppia come concetto.